Come stanno vicino al totem, però abbiamo voluto chiedere per forza perché sennò si rompe. La pasta che diciamo abbiamo buttata, è un tempo che abbiamo messo, però siamo riusciti. Pure chi ha i trafili che fa le foci, mamma mia! Come si fa? No, manca, mamma mia! Siamo al pastificio Setara dove il miracolo è avvenuto, il totem della pace che la Fondazione Mediterranea sta diffondendo in tutto il mondo diventa pasta in esclusiva per la Fondazione, grazie alla maestria, alla passione e al sostegno di Vincenzo Setaro. Un commento? Sì, grazie alla nostra capabilità e alla nostra anche volontà di avere una nuova forma, di creare questa nuova forma oggi possiamo dire che siamo soddisfatti di essere presenti con la nostra piccola azienda nella Fondazione. Grazie a nome di tutti quelli che si nutriranno di pace con la pasta del totem della pace. I primi totemmini della pace della pasta Setaro vengono cotti col pomodoro fresco. Nutritevi di pace! Nutriamoci di pace! I primi totem della pace cucinati col pomodoro del Vesuvio per la pace per noi! Buon appetito! Nutriamoci di pace!